Una buona giornata, buon sabato e benvenuti alla prima edizione del nostro telegiornale che apriamo andando a Pescara dove è arrivato il sì ai maxi schermi in città ma con distanziamento e controlli rafforzati. Ne ha parlato questa mattina il questore di Pescara Luigi Liguori a margine della presentazione di due bici elettriche che verranno utilizzate dagli agenti della volante per un nuovo servizio partito oggi. Paolo Rezzetti. Sì ai maxi schermo in città ma con posti a sedere e distanziamento. In vista della finale degli europei a Pescara il prefetto ha predisposto un rafforzamento dei controlli in centro città per evitare pericolosi assembramenti. Ne ha parlato questa mattina il questore del capoluogo adriatico Luigi Liguori a margine della presentazione di due e-bike che verranno utilizzate per i controlli della polizia di prossimità a Pescara. Per quanto riguarda la finale di domani sono stati già svolti diversi tavoli tecnici. C'è stata anche una riunione tecnica di coordinamento tenuta dal signor prefetto ieri in cui sono intervenute tutte le forze di polizia. Nel nostro capoluogo si è fatta la scelta di continuare a mantenere anche i maxi schermi, ce ne sono due. Noi ci siamo battuti affinché ci fossero i posti a sedere e non i posti in piedi, affinché ci fosse il distanziamento e affinché fosse mantenuto un certo limite di persone. Abbiamo predisposto un servizio particolarmente accurato e speriamo efficiente affinché i possibili eventuali ed auspicati festeggiamenti si svolgano alla massima sicurezza. Ci sono diverse decine di operatori delle tre forze di polizia che sulla fascia dalle 20 fino alle 4 del mattino saranno a fianco ai cittadini sperando che vadano a festeggiare e non si verifichano episodi di intolleranza o di teppismo come si è assistito in altri luoghi. Noi siamo molto contenti che la città invece abbia mantenuto un profilo, un contegno particolarmente civile. E così da oggi poliziotti sulle due ruote elettriche per essere ancora più vicini ai cittadini. Il servizio ci sarà nei mesi di luglio, agosto e settembre. È un servizio che abbiamo voluto e pensato e organizzato e siamo contenti di averlo messo in campo da questa mattina. Avremo la polizia di prossimità sempre più presente, avremo degli operatori che saranno a fianco dei nostri cittadini, dei nostri commercianti per le strade del nostro capoluogo cercando di aumentare il livello di sicurezza. Il servizio si svolgerà sulla fascia dalle 8 alle 20, dalle 8 del mattino fino alle 20. Al momento ci sono 6 agenti che sono stati destinati a questo scopo, che sono stati prelevati da uffici diversi dall'ufficio volante, per dirlo in maniera semplice ai cittadini, per non sottrarre il servizio volante già esistente. Quindi è un servizio aggiuntivo, è un servizio che opera in sinergia con gli altri servizi sul territorio perché siamo fermamente convinti che il presidio quasi statico sul territorio sia necessario sia per vedere meglio, sia per essere meglio contattati dall'utenza e dai cittadini per risolvere le problematiche sempre connesse alle esigenze di ordine e sicurezza pubblica prevalentemente. Restiamo a Pescara. Dopo i numerosi disagi verificatisi per la carenza d'acqua in alcune zone della città, il sindaco Masci ha scritto una lettera all'ACA. Sindaco, ci sono disagi anche a Pescara per l'acqua, soprattutto in alcune zone della città e in alcune ore. Lei proprio ieri ha scritto una lettera accorata all'ACA chiedendo che questi problemi possano essere risolti nei limiti del possibile. Sì, perché è vero che gli invasi sono vuoti, che ci sono perdite nella rete idrica, però l'ACA deve comunque fornire un servizio accettabile per i cittadini di Pescara e per tutta la provincia. Oggi ci sono delle carenze notevoli, io ho scritto all'ACA proprio per sollecitare degli interventi definitivi che risolvano il problema, perché da troppi anni si trascina questa gestione ACA improvvisata che sicuramente non risolve alla radice le questioni. Si parla di pressione che è più bassa rispetto a quella che dovrebbe essere, l'ACA dice che la pressione è quella da contratto, però evidentemente non basta questa pressione, la gente in alcune zone è senza acqua, non ce lo possiamo permettere, so di disagi in tutta la provincia di Pescara e anche nella provincia di Chieti. Superiamo questa situazione, l'ACA dice che occorrono 100 milioni di euro per risanare le condotte, questa è una situazione che si protrae da tantissimi anni, ma oggi dobbiamo cambiare passo, la nuova ACA deve cambiare passo, è chiaro che la situazione dell'ACA che è una situazione di concordato preventivo non permette sicuramente di muoversi agevolmente come ente, però l'ERSI che è l'ente che deve fornire risorse per effettuare le opere deve agire anche esso velocemente per risolvere i problemi. A cento anni dalla nascita il Consiglio regionale ha reso omaggio a Remo Gaspari con una cerimonia alla quale è intervenuto anche l'ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Gianni Lenta. 10 luglio 1921, 10 luglio 2021, a cento anni dalla nascita tante sono le manifestazioni che ricordano Remo Gaspari, esponente di spicco della democrazia cristiana, parlamentare dal 1953 al 1994 e soprattutto più e più volte Ministro della Repubblica Italiana Sanità, Trasporti, Poste e Telecomunicazioni, Difesa solo per citare alcuni dei dicasteri presso i quali è stato incaricato. Stamani è stato emesso un francobollo valido per la posta ordinaria con un ritratto fotografico di Remo Gaspari a Palazzo dell'Emiciclo, all'Aquila anche il Consiglio regionale con una cerimonia ha ricordato il politico originario di Gissi, evento cui hanno preso parte tra gli altri il figlio Lucio, il sindaco del piccolo centro del Chietino Agostino Chieffo e l'ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Gianni Letta. Ho visto quanto fosse profonda la capacità di governo di Gaspari e come in ogni ministero avesse lasciato un indirizzo, una indicazione, avesse aperto una strada nuova. Quindi un uomo di governo che rivendicava la sua dimensione abruzzese ma che ha avuto nella storia d'Italia un tratto importante e un impegno in sé importante. Passione politica che era forte perché genuina e anche per questo portava forse in qualche momento alla contrapposizione, ma una contrapposizione che è stata sempre feconda per l'Abruzzo e che non è stata mai personalistica. Quindi è doveroso il ricordo. Mi fa piacere che qui nell'aula del Consiglio regionale dell'Abruzzo oggi a pochi giorni di distanza dai 10 anni della morte come ha ricordato Menna e nell'anno del centenario della nascita l'Abruzzo senta il dovere di ricordare Remo Gaspari. È stato un grande abruzzese, è stato un grande italiano, gli deve molto l'Abruzzo e gli deve molto l'Italia. Ieri a Spoltore si è svolto il congresso regionale del Partito Socialista Italiano che ha eletto come nuovo segretario abruzzese l'Aquilano Gianni Padovani, il quale prende il posto di Giorgio D'Ambrosio. Stefano Recanati. Gianni Padovani è il nuovo segretario regionale abruzzese del Partito Socialista, 45 anni, già consigliere comunale nella sua città. L'Aquila è segretario provinciale del Partito da 7 anni e all'interno del direttivo nazionale. La nomina è arrivata ieri nel corso del congresso regionale del PSI che si è tenuto al ristorante della Corte di Spoltore, cui ha partecipato anche il segretario nazionale Enzo Maraio. Padovani succede a Giorgio D'Ambrosio che si congeda dall'incarico avendo le idee chiare sulle strategie future del Partito. In questa avventura iniziata, se ricordo bene, a dicembre 2015 l'obiettivo era cercare di riportare un socialista al palazzo dell'emiciclo. Purtroppo la congiuntura sfavoriva, non solo per colpa nostra, le ultime regionali c'è stato il trionfo delle destre. Ce ne dispiace, il progetto è venuto meno. Ho ritenuto giusto, dopo tanti anni, di passare la mano. Ci sarà un nuovo segretario che sicuramente meglio di me potrà ancora interpretare la linea politica e accentrare gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Dobbiamo fare un'alleanza stabile con Italia Viva, con azione di calenda, con più Europa per far sì che si crei un contenitore, come io chiamerei riformista, la seconda campo della coalizione che ci dà maggiore visibilità ma soprattutto anche un maggiore stimolo a chi si vuole candidare per poter scendere in campo. Davanti a noi ci sono delle sfide importanti, quelle di ricostruire un centro-sinistra forte, unito e plurale che è mancato a questo Paese. All'interno del centro-sinistra animare come socialisti un'area riformista di cui il Paese ha bisogno. C'è tanto ancora da fare in termini di modernizzazione di diritti civili, di lavoro, di welfare e quindi i socialisti saranno centrali sicuramente nella prossima stagione che l'Italia si appresta a vivere. Sempre nell'alveo naturale nostro che il centro-sinistra, in maniera autonoma, anche in maniera critica, dove bisogna pungolare gli alleati del centro-sinistra, ma è evidente che la scelta che abbiamo fatto a livello nazionale nelle regioni, lo faremo nei comuni, è sempre quello di alimentare, di cambiare, di modificare un centro-sinistra che deve tornare ad essere credibile, spendibile e plurale. Vogliamo fare in modo di coinvolgere la società civile e di conseguenza cercare di essere presenti in tutti i comuni dove si andrà al voto, per poi anche fare una coalizione la più ampia possibile per cercare di eleggere dei consiglieri comunali nei comuni dove saremo presenti e per poi avere come obiettivo finale quello di tornare in consiglio regionale. Inaugurato questa mattina il cantiere per la costruzione del terzo e ultimo tratto della strada Pendolo a Pescara. Si avvicina il completamento dell'opera. È stato il sindaco di Pescara, Carlo Masci, ad inaugurare questa mattina il cantiere per la costruzione del terzo e ultimo tratto della strada Pendolo, l'importante arteria di collegamento tra l'area dell'ospedale e la zona sud di Pescara. Il nuovo asse viario della lunghezza di 180 metri unirà la Tiburtina all'altezza dell'intersezione con Via Lago di Capestrano, con Via Salaravecchia, eliminando nel contempo una condizione di degrado ambientale imperante in quel sito. Un'operazione attesa da oltre vent'anni che porterà al completamento di una infrastruttura di fondamentale importanza per la mobilità cittadina alternativa e per l'assetto e la riqualificazione urbana del distretto ovest e sud-ovest di Pescara. All'incontro con i giornalisti ha partecipato anche l'assessore ai lavori pubblici e alla mobilità Luigi Albore Mascia. Realizziamo un altro tratto della strada pendolo strategico di 250 metri ma che va a raccordarsi con ciò che è già esistente alle nostre spalle rispetto a un lavoro invece altrettanto importante che è in corso nella zona di San Donato. È una misura di viabilità e qui parla l'assessore alla mobilità e la viabilità importantissima per la città di Pescara. Snellisce il traffico, verrà offerta ai pescaresi come un'alternativa utilissima rispetto alla viabilità ordinaria. I tempi di completamento dell'opera? Allora, quelli che partono oggi di fatto 170 giorni, quindi poco più di 4 mesi, anzi 5 mesi scusate, sono in corso anche gli altri lavori in via Rio Sparto che avranno la possibilità poi di trovare una perfetta sovrapposizione con la conclusione di quelli che iniziano oggi. Poi in realtà rimarrà un ulteriore sogno che è quello di raccordarci all'ospedale di Pescara rispetto al pronto soccorso che verrà inaugurato tra qualche settimana e insomma la Pescara del futuro inizia a delinearsi e non posso che essere soddisfatto da amministratore di lungo corso affinché ciò avvenga. Andiamo a Teramo adesso dove l'Asla ha presentato il proprio bilancio sociale unico nel panorama abruzzese. Un documento di rendicontazione che illustra da una parte i programmi e i progetti dall'altra gli obiettivi raggiunti anche e soprattutto in termini di servizi al cittadino. L'Asla di Teramo è la prima asla della regione Abruzzo a redigere un bilancio sociale in cui abbiamo mappato i modelli di creazione di valore non solo per i pazienti, non solo per i dipendenti ma tutti per i portatori interessi. L'anno di riferimento è quello del 2019 perché è ritenuto l'anno ordinario rispetto alla pandemia del 2020-2021 e con minori finanziamenti sono stati attivati i progetti strategici più rilevanti per questo territorio. Un indice importante che è di controtendenza rispetto alle altre Asla una percentuale di assunzioni della presenza femminile sul totale dei dipendenti e questo fa ben sperare che ci siano le premesse per il primo bilancio di genere dell'Asla di Teramo. Trattasi di uno strumento di democrazia uno strumento su base volontaria quindi abbiamo scelto di confrontarci di metterci a nudo di quello che sono stati i nostri obiettivi che abbiamo realizzato quello che ci eravamo previsti di fare e quindi verificare se li abbiamo raggiunti come raggiunti in maniera tale che tutti i cittadini della popolazione, le istituzioni e gli altri organismi che quotidianamente si rapportano con noi possano rendersi conto di quello che un'azienda mette in campo confrontarsi e mettere in atto quelle strategie per il miglioramento della sanità nel proprio territorio. di uno strumento di trasparenza di cui il cittadino può prendere cognizione rendersi conto di come viene fatta la sanità nel proprio territorio e quindi fare delle scelte se curarsi, dove curarsi per salvaguardare la propria salute. Sono stati chiusi i tre drive-thru allestiti nella provincia dell'Aquila nel capoluogo ad Avezzano e Sulmona utili per l'esecuzione di tamponi molecolari Covid e gestiti dal personale sanitario dei Carabinieri. Nell'occasione il colonnello Salvatore Falvo dirigente del servizio sanitario legionale ha voluto ringraziare la cittadinanza per la collaborazione. Siamo in compagnia del colonnello Falvo colonnello un grande impegno da parte di tutti cittadinanza compresa. Sì, intanto ovviamente grazie per il vostro interesse. Io confermo quello che dice lei noi dobbiamo esprimere una fortissima gratitudine alla popolazione di Avezzano che ci ha supportato in un periodo particolare. Abbiamo circoscritto i focolai e abbiamo potuto garantire alle popolazioni di vivere con minor dubbio la vicenda del Covid. Questo grazie alla lungimiranza del Ministero della Difesa che attraverso il COI ha messo in piedi l'operazione IGEA non si è fermato a questo. Adesso abbiamo in corso anche l'operazione EOS cioè le vaccinazioni. Noi fino al 31 luglio non lasceremo una dose intentata e resteremo sul territorio anche laddove dovesse essere necessario oltre il 31 luglio. Qui con noi c'è anche il Vice Sindaco di Avezzano questo sicuramente è una giornata importante una giornata potremmo dire storica nella lotta anche alla pandemia. Non ci possono essere che parole di plauso e di ringraziamento nei confronti dell'arma dei carabinieri in generale e della compagnia di Avezzano in particolare. Devo dire che il Comune è stato veramente sorpreso benevolmente nel momento in cui ci hanno proposto questo servizio un servizio in un momento particolarissimo non lo dimentichiamo perché era il mese di novembre in cui effettivamente il problema Covid stava nel pieno della virulenza e devo dire che anche e soprattutto grazie a loro alla loro attività e soprattutto al loro senso al grande senso civico che hanno dentro di loro di appartenenza siamo riusciti grazie a loro a fare un servizio ottimale sotto ogni punto di vista. Una dedica alle vite nascoste e non ordinarie è il filo conduttore della mostra dell'artista Fabrizio Sannicandro che sarà inaugurata nel pomeriggio sarà inaugurata nella splendida cornice dell'abbazia di Santa Maria di Propezano a Morrodoro sabato prossimo la mostra resterà aperta fino al prossimo 22 agosto. La mostra vita che si terra all'abbazia di Santa Maria di Propezano è dedicata a parte da quest'idea è una dedica diciamo alle vite alle vite nascoste alle vite non ufficiali alle vite non ordinarie che formano un corpo unitario e in qualche modo è una dedica alle tante vite che hanno formato il corpo unitario dell'umanità. La mostra proprio nasce e parte proprio il percorso espositivo da un'opera corale che mette in relazione proprio le persone che scrivono a cui ho chiesto un contributo autobiografico e che ho poi tradotto in termini visivi. Questi elementi andranno a costituire un'opera corale di circa due metri per tre e sarà una traduzione visiva di tanti contributi in forma scritta in forma scritta in maniera proprio anche manuale. Quindi attraverso questa esperienzialità del disegno manuale e della scrittura manuale c'è una richiesta di esperienzialità e quindi di unione e di scambio per testimoniare l'importanza del tratto umano. Quindi io comunque da sempre mi piace proprio lavorare su questo tratto che ci accomuna un po' tutti che accomuna un po' tutti gli esseri umani formulando appunto queste immagini che sono un po' atemporali sospese fuori dal tempo così in termini assoluti idealizzati di figure umane e animali per cui sono ritratti che proprio cercano di raffigurare l'essenza proprio dell'umanità dell'equilibrio universale dell'uomo con la natura. Apriamo adesso la pagina dello sport partiamo con il calcio in casa Teramo giovedì prossimo scade la deadline che Iachini ha ufficializzato in conferenza stampa come termine ultimo per capire se ci sarà la possibilità o meno di allargare la base societaria dunque da venerdì prossimo il diavolo dovrà capire qual è il progetto calcistico che manca ancora di parecchie pedine. La settimana aperta dalla conferenza stampa di Iachini mercoledì mattina si chiude con un sostanziale attesa per quello che sarà ma d'altronde era stato lo stesso massimo dirigente biancorosso a definire le date e le scadenze nell'incontro con la stampa per questo la deadline di giovedì prossimo è quella da attendere prima di poter dare una definizione più compiuta di cosa voglia fare il Teramo e come abbia intenzione soprattutto di metterlo in pratica le idee ci sono ma nulla è ancora vicino alla concretizzazione tanto è vero che i nomi per sostituire Massimo Paci si susseguono ma di fatto il nuovo tecnico non c'è ancora anche se in verità il primo nodo da risolvere sarebbe quello legato al direttore sportivo nei giorni scorsi Sandro Federico è stato a Sassuolo ma Iachini forse in maniera strategica ha ammesso di non saperne nulla con i nero-verdi c'era in ballo la questione Cianci la recompra non è stata esercitata e il Teramo ha dovuto dire addio ai 500 mila euro che una squadra di serie A avrebbe potuto anche mettere sul piatto mentre una formazione di categoria inferiore è difficile se non impossibile che possa avere a disposizione specie in questo momento storico una cifra del genere le squadre interessate all'attaccante sono molte ma i parametri economici del diavolo spesso cozzano con le disponibilità di chi vorrebbe qualcuno dei giocatori biancorossi ed ecco perché il prossimo direttore sportivo chiunque dovesse essere dovrà lavorare di fantasia cercando di muovere le pedine muovendo meno denaro possibile perché la disponibilità economica è complicata da trovare in giro così come per gli altri pezzi freggiati dell'organico specie quelli giovani si parla ad esempio da settimane di un interesse del Pisa per Piacentini ma finora non è stato concretizzato nulla peraltro a proposito di difensori i nerazzurri toscani avrebbero individuato per rinforzare quella zona di campo Maxime Leverbe francese classe 97 del Chievo per questo a Pisa viene costantemente monitorata la situazione dei Clivenzi proprietari del cartellino molte compagini hanno già messo parecchi tasselli al loro posto il Teramo in questo senso non ha fatto ancora granché lo farà ma con il rischio che gli obiettivi di mercato quando la macchina biancorossa si metterà in moto saranno già accasate altrove e il diavolo si è costretto a scegliere tra coloro che rimangono a disposizione giovani con valorizzazione sicuramente ci saranno qualcuno che salga dalla categoria inferiore e anche in più qualche promozione dal settore giovanile e qualche senatore per guidare il gruppo questo è quello che Iachini prospetterà a colui che avrà scelto per la panchina del diavolo un torneo complicato sì ma che se ben interpretato può comunque riservare qualche soddisfazione parliamo di ciclismo adesso Marta Bastianelli sarà alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per la prova femminile di ciclismo su strada il CT Salvoldi la scelta nella formazione che avrà come leader Elisa a lungo Borghini ma la Bastianelli negli appuntamenti internazionali ha sempre fornito grandi prestazioni la ascoltiamo Marta allora complimenti perché insomma è notizia di qualche ora fa la convocazione a Tokyo 2020 ma sicuramente è una bellissima diciamo emozione insomma dopo 13 anni che rincorro questo sogno posso dire ufficialmente che non è mai troppo tardi e quindi sono oltre che felice ringrazio anche un po' per la fiducia che mi è stata data e sarò sicuramente lì per mettere a disposizione le mie caratteristiche come mi è stato richiesto e per essere di supporto ad una grande squadra quindi sono veramente felice probabilmente ancora non mi rendo conto perché poi adesso sono al giro quindi comunque ci sono tante altre emozioni che stiamo vivendo però credo che sia veramente qualcosa di eccezionale che gara farà in Italia ma sicuramente è un percorso molto diverso dagli uomini ed è per questo che il CT ha deciso di diciamo di non concentrarsi soltanto su una squadra che potesse essere una squadra diciamo da scalatrici e quindi ha preferito portare anche una punta più veloce come poi ha sempre fatto in tutte le altre competizioni e proprio perché dobbiamo tener conto anche di diciamo di un tipo di gara che si possa presentare aperto a qualsiasi occasione quindi saremo pronti in caso di magari arrivo in solitaria quindi in caso di arrivo in gruppetto credo che poi ce la giocheremo abbastanza in forma aperta sicuramente siamo di supporto a un Elisa che poi sta dimostrando e ha sempre dimostrato di essere in questo momento la più forte in Italia anche in campo internazionale e ci teniamo in considerazione anche il fatto che possa arrivare un gruppetto e quindi io possa mettere a disposizione poi le mie caratteristiche in quel caso campionessa d'Italia campionessa d'Europa e anche campionessa del mondo del 2007 fai tutti gli scongiuri che vuoi però mancherebbe solo l'Olimpiade non ho il tempo di fare gli scongiuri che vuoi no diciamo che intanto per me credetemi che partecipare è stata c'è un qualcosa di eccezionale perché l'ho rincorso per 13 anni ogni quadri anno c'era un problema diverso quindi essere qui ad oggi a 34 anni credo che sia una buona occasione intanto e sicuramente poi sarà anche una buona occasione per portare a casa una bellissima prestazione tornare sui campi del centro polisportivo di Marina di Città Sant'Angelo il torneo nazionale di tennis per veterani organizzato anche quest'anno dal circolo tennis Silvi via legare fissato per il 22 luglio a distanza di anni organizzate ancora una volta questo torneo per veterani si torna a giocare a tennis e soprattutto i veterani possono tornare a giocare a tennis assolutamente sì noi siamo stati gli ultimi a fare il torneo veterani nell'anno 2020 a febbraio 2020 prima che si chiudesse tutto per causa covid noi abbiamo organizzato l'ultimo torneo nazionale in Abruzzo e siamo lieti e orgogliosi di poter riorganizzare il primo torneo nazionale ovviamente in Abruzzo veterani per l'anno 2021 e questo dal 22 di luglio fino al 30 di luglio chi parteciperà? guardi noi ci auguriamo tanti perché comunque la sete di gioco c'è i veterani tenga presente che sono le persone che giocano di più nel mondo del tennis perché sono coloro i quali dopo i 30 anni 35 anni frequentano di più questo sport e quindi noi ci auguriamo di avere un buon numero di partecipanti la pandemia come dicevamo ha bloccato questi signori che purtroppo sono stati gli unici a non poter giocare a tennis durante il periodo di lockdown verissimo perché nel periodo di lockdown si potevano giocare soltanto i tornei open approvati oltretutto validati dal CONI quindi gli otteni open sono quelli con monte premi nel settore veterani è stato il settore come i giovanili diciamo che è stato penalizzato dal covid totalmente e speriamo che il covid insomma ce lo lasciamo un po' alle spalle e si possa riprendere veramente l'attività in tutto e per tutto e che gli avviterani possano veramente crescere considerando che è un movimento molto importante per il tennis italiano non solo veterani al circolo tennis ma anche i bambini che si approcciano allo sport per la prima volta assolutamente sì come vedete dalla mia maglietta noi siamo un centro CONI eduCamp siamo con i bambini del centro CONI eduCamp che stanno qui da noi dal mese di luglio in poi che ovviamente fanno attività sportiva multisport proprio per promuovere qualsiasi attività non faranno altri soltanto multisport ma fanno anche attività ludico manipolativa fanno musica quest'anno abbiamo inserito anche il mare e lo yoga è una disciplina molto importante i bambini sono molto contenti di questo questo era il nostro ultimo servizio i contributi che avete visto sono disponibili già on demand sulla piattaforma youtube e anche sul sito web www.tv6.it oltre che sulle nostre pagine social a me non resta che ringraziarvi per l'attenzione e augurarvi un buon proseguimento di giornata per l'attenzione e a me non resta per l'attenzione a me non resta per l'attenzione Grazie a tutti